uuuu addirittura intercettazioni sconvolgenti e che cazzo sarà mai successo la malagestio della juventus tutte ste robe qua a cazzari mi raccomando non una parola su chi ha passato queste intercettazioni penalmente irrilevanti quindi è stato commesso un reato quindi è un reato nordio vediamo di fare un po di pulizia in questo marciume nelle procure caro ministro spendiamo troppo diamo troppo di ingaggio zapata prende un milione e otto a noi un cane tre mesi uuuu mamma mia che paura che scandalo secondo voi ora io in quest'ultimo periodo raramente ho messo in mezzo altre società per la loro gestione secondo voi cosa si dicevano a milano al suning center quando si era in trattativa per dibala e non è andato quando si era trattativa per bremer e non è andato che lei dici di intercettare anche certi dialoghi secondo voi cosa si dicevano hanno fatto gli errori grazie al cazzo ci volevano intercettazioni per capirlo ci volevano intercettazioni per capirlo chissà cosa avremmo scoperto se fossero stati intercettati berlusconi e moratti quando moratti dava al milan pirlo e sedolf e prendeva coco e guli chissà cosa avremmo scoperto ma non mi cacate il cazzo ma per favore ma per favore hai voglia ragliare contro gli altri giuventini contro gli altri giuventini gli iscritti vanno sempre più giù sempre più giù hai voglia ragliare ma tanto il tuo obiettivo lo stai raggiungendo ma va bene va bene bravo no comunque a parte tutto non un bastardo di giornalista che ponga l'accento sulla commissione di un reato ma non c'era chiedo scusa ma non c'era l'obbligatorietà dell'azione penale no perché fatemi capire se qua arrivano al Corriere della Sera è sbagliata a prendervela con Nerozzi questi hanno la notizia e la pubblicano come giusto che sia sbagliate a prendervela con Nerozzi ve la dovete prendere con chi gliela date quella intercettazione a Nerozzi o meglio se la dovrebbe prendere qualche procura quella competente a giudicare quella di Torino eh o mi sbaglio eh o mi sbaglio perché se non sbaglio si tratta di un reato che cazzo aspettate a metterli sotto inchiesta queste persone qua che cazzo si aspetta a fare una riforma della giustizia come Dio comanda che ponga fine a questi abusi ripeto abusi e ripeto non c'è lo con i giornalisti assolutamente loro hanno del materiale e lo pubblicano punto punto se un giornalista scopre un cadavere eh andate da lui per chiedere chi è stato andate da lui a chiedere chi è stato non penso non credo si indaga su chi quel cadavere lo ha reso tale o mi sbaglio quindi che cazzo si aspetta a fare un po' di pulizia cos'è la vendetta per perché siete stati sputtanati perché abbiamo sputtanato Sandoriello quella è la vendetta eh ma che bravi che siete la nostra dirigenza di incapaci quella dirigenza di incapaci si ha portato nove scudetti quattro coppe anzi cinque coppe italia e due finali di champions league quella dirigenza di incapaci e non contro le super coppe che sono due tre non mi ricordo quella dirigenza di incapaci quella dirigenza di incapaci si è risollevato dalle maciere di calciopoli o vi piaceva la juve di cobolligilli vi piaceva eh ma tu guarda e si incazzano pure oh e si incazzano pure cioè se sei roba da matti roba da matti cioè pazzesco una roba pazzesca davvero se abbiamo pagato quello tanto quello non fa giocare gli ante 23 e allora e allora perché non proviamo a intercettare cosa dice Murigno dei suoi dirigenti o cosa si dicevano Spalletti e Totti quando erano alla Roma proviamo a intercettare chi so che so magari cosa si dicevano Moggi, Maradone e Ferraino al tempo nel 1991 proviamo a intercettarlo ma che minchiate andate pubblicando pure voi wow avete scoperto l'acqua calda avete scoperto l'acqua calda ma credevate che davvero si andava ad amore d'accordo nelle società ma che cazzo già che solo uno che non ha mai non dico giocato a calcio secondo me chi si sorprende di queste robe per me non è mai andato manco allo stadio in vita sua non giocato a calcio chi si sorprende di tutto questo non è mai andato neanche in uno stadio se proprio devo dirla cioè mamma mia ragazzi i boccaloni i boccaloni come ci cascano come ci cascano mamma mia che paese di fessi mamma mia che paese di fessi poi volevo rispondere giustamente a un commento intelligente che mi ha postato un amico granata che saluto diventeremo intanto io continuo ad augurarmi di rivedere prima o poi un Torino all'altezza e questo può accadere solo in un modo così come è accaduto più volte alla Juve riscoprire i giocatori italiani perché se c'è una cosa che tutto questo se c'è una cosa positiva dall'età me nascono i fiori ricordatevelo sempre che tutta sta merda sta causerà è la riscoperta dei calciatori italiani è inevitabile la Juve degli ultimi anni l'Inter già da qualche anno lo stesso Milan appena si renderà conto che giocatori come Leao Hernandez sono di passaggio vedrete come ripiegherà sugli italiani ma anche il Napoli non crediate anche il Napoli perché io non è che sono così sicuro che Osimiel resta a Napoli Osimiel sentiva la maglia Insigne sentiva la maglia Bruscolotti sentiva la maglia che so Ciro Ferrara prima del mezzo fallimento del Napoli che l'ha portata alla Juve quelli sentivano la maglia non gli stranieri ma vale per il Napoli come vale per l'Inter come vale per tutti guardate Skriniar guardate Skriniar capitano 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 io veramente non so se in Curva Nord siano ingenui o troppo ingenui o troppo non lo so di Zanetti ce n'è uno ragazzi di Javier Zanetti ce n'è uno solo non ce n'è altri non ce n'è altri e cambiasso Samu e sono durati ma perché hanno fallito a Madrid Zanetti si è fatto tutta la trafila dai settimi e ottavi posti dell'inizio Moratti fino alla fine Zanetti è vero che si è fatto tutta la trafila che arriva con Rambert Zanetti ma gli altri Samuel Cambiasso Samuel Cambiasso arrivano dopo il fallimento a Real Madrid mica arrivano perché volevano venire all'Inter perché avessero fatto bene a Madrid sarebbero rimasti lì sicuramente ma vale per quelli vale per la Juve vale per tutti vale per la Juve vale per tutti per il Milan per la Roma vale per tutti ragazzi ecco perché da tutta sta melma dobbiamo approfittarne per riscoprire i talenti italiani e forse un giorno riavremo una grande nazionale in grado non solo di qualificarsi ma di fare bene al mondiale perché la base comunque c'è la base comunque c'è chi dice che l'europeo l'abbiamo vinto a culo sbaglia non l'abbiamo vinto a culo perché sono venuti fuori dei centrocampisti con i controcazzi oltre ai vecchi difensori perché difesa il centrocampo era la forza dell'Italia di Mancini difesa il centrocampo dove pecchiamo è in attacco ed ecco il perché il fallimento all'ultimo mondiale dove pecchiamo perché contro avversari che si chiudevano dovevi fare i gol lì hai sofferto è inevitabile è inevitabile senza dimenticare che senza dimenticare che analizzando l'europeo analizzando l'europeo noi siamo fatte tre partite in casa a Roma e giocare a Roma può essere sempre portato bene alla nazionale le tre partite del girone le hai fatte a Roma sospinto dal pubblico e tutto il resto con un girone neanche tanto eh neanche tanto esaltante diciamo come difficoltà la prima unica avversaria alla tua portata che hai incontrato fuori in casa è stata l'Austria che nei 90 minuti ha giocato molto meglio di te poi per il resto hai trovato sempre avversari più forti sulla carta Belgio Spagna Inghilterra hai trovato che ti dovevano attaccare quindi tu potevi agire di rimessa e li hai battuti perché? perché hai difesa centrocampo forti dove pecchi in attacco dove le prime tutte a parte chiesa a parte chiesa e immobile sono tutti stranieri quelli delle 7-8 grandi a parte chiesa e immobile sono tutti stranieri quindi fatemi una domanda e datemi una risposta ecco perché ecco perché bisogna insistere sugli attaccanti che li vedo ancora molto lontani da venire però dai ragazzi iscrivetevi al canale che cazzo ve lo dico a fare più tardi faremo un video su West Ham Chelsea su tutte le altre partite a dopo